vai aspetta 3, 2, 1, vai 80, destra 6 su dosso 40, sinistra 5 meno meno in destra 5 più lunga in sinistra 6, 130 stacca sinistra 1 30 sinistra 6 20, salto 70 destra 6 lunga per sinistra 2 20 cambia accendo sinistro 40 destra 5 meno tieni per all'albero ritardo a sinistra 4 più e destra 5 vai 100 all'albero destra 2 2 bene, bene non troppo interno ok 30, sinistra 6 corta ok, abbiamo abbassato un secondo 19,8 19,8 20,8 20,8 the 21,9 21,2 21,2 22,9